Sì, Boschieri. Sì, ha detto Gabriele che venivi, poi ti chiediamo il video così, per riprendere con le nostre. Solo che pensavo incominciasse alle 10 e mezza, invece alle 11, eh vabbè, uguale. Perché poi vado a Bologna, no? E a Bologna giocano alle 2, porca miseria. Quindi sono al limite, al limite, al limite. Sì, beh comunque, se poi viene Maio, al limite ci sta lui. Va bene, grazie. Ciao, Boschieri, ciao. Grazie. 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 Provo a vedere se vado in diretta. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.